Quasi 15.000 metri quadrati di nuove strutture sanitarie, 7 case della comunità, 3 ospedali di comunità, 3 cotta, 75 nuovi ambulatori e 60 nuovi posti letto, per un totale di 19 interventi e un investimento di oltre 50 milioni di euro. Sono i numeri del PNRR per l'area provinciale Aretina che cambieranno il volto della sanità territoriale. Di particolare rilevanza su Arezzo la questione dell'aggiornamento della medicina nucleare con due macchine nuove e in una di queste è stata fatta anche un'implementazione con una TAC PET e poi abbiamo i due acceleratori lineari per la radioterapia. Sono innovazioni importanti che costituiscono il presupposto del San Donato 2.0 che è oggetto di un master plan e di un piano di sviluppo varato da questa direzione. La seconda fase è iniziata lo scorso 31 ottobre con l'apertura di tutti i cantieri della provincia che dovranno essere consegnati entro il 31 dicembre 2025. A questo punto le cotte sono già finite e sono già perfettamente funzionanti, mentre invece sono stati consegnati i cantieri delle case della comunità e dell'ospedale sicuro. Gli investimenti del PNRR, soprattutto quelli nella dimensione territoriale, servono anche a promuovere un nuovo modello di assistenza integrata, sanitaria, sociosanitaria nel territorio che è la grande sfida programmatica dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Tra gli obiettivi infine è quello di una transizione energetica ed ecologica. Tutti i processi, dalla produzione dei materiali all'utilizzo dei materiali ma anche alle fasi costruttive, devono porre attenzione in modo tale da non arrecare danni significativi all'ambiente.